Buonasera dal gruppo degli artisti irpini, ci troviamo questa sera 25 luglio 2014 al Cisano di San Domenico in occasione di una rassegna di musica rock che vedrà coinvolti gruppi emergenti, salermitani ma soprattutto irpini uno di questi sono i Big Street Clothes, abbiamo soprattutto da elencare i vari nomi, quindi se si possono presentare Allora io sono Resepe Luongo e sono il cantante e chitarrista del gruppo e lascio poi presentare Io sono Adolfo Annecchiarico, il batterista, drummer, tu è il collega e te Io sono Carmina Centrella e sono il bassista, anche con le voci di sottofondo Io sono Massimo Mangianti e sono il personale di questo Possiamo raccontare un po' la vostra storia perché è una storia recentissima, quindi chi di voi insomma vuole dire qualcosa? Ci siamo formati da poco, una decina di giorni e abbiamo iniziato diciamo con questa nuova formazione a creare delle cover, a fare delle cover di altri gruppi rock famosi proprio in occasione della serata qui a Cisano e speriamo che la serata vada bene e diciamo siamo propensi a continuare poi la nostra avventura musicale, questo progetto musicale di creare magari in un futuro degli inediti e di avviare anche, se tutto va bene, un progetto solido e di creare, perché no, anche un hobby e di farci conoscere, di fare serate, qualunque cosa perché comunque in fine il rock come musica non è diciamo molto... Non è molto quotato Quotato, sì sì, e quindi noi cerchiamo di farci notare, quella è la cosa principale la cosa diciamo più importante alla fine poi è divertirci, stare insieme, suonare e portare avanti la nostra passione ovviamente è un progetto interessante perché comunque veniamo da diversi generi, dal metal al punk al rock, hard rock e insomma stiamo mettendo insieme le idee e come ogni gruppo all'inizio si parte dalle cover quindi si va a pescare un po' in generale e a stabilizzare il gruppo Poi si trova la strada giusta e... Cerca di riprendere spunto anche degli altri gruppi per poter diciamo formare qualcosa di inedito nostro cercando stesso di formare qualcosa di solido, qualcosa che piace e pregio Ecco vogliamo dire anche la vostra provenienza, insomma il vostro luogo d'origine e soprattutto come vi siete conosciuti perché avendo diciamo varie diverse origini musicali Allora, io e l'altro chitarrista Massimo siamo originari proprio di Giusano San Domenico e diciamo la conoscenza tra Massimo, Carmine e Adolfo è venuta da poco perché io conosco Adolfo e Carmine da un sacco di tempo più che altro lui che ci conosciamo Io e lui abbiamo suonato per circa 15 anni insieme Ah, quindi una conoscenza molto presto Quindi già eravate in pace Sì, abbiamo avuto un progetto molto interessante poi messo da parte per motivi diciamo organizzativi però siamo rimasti sempre amici lui diciamo Carmine è stato colui che è venuto dopo che l'abbiamo cresciuto musicalmente e amicovolmente e Massimo invece l'abbiamo trovato per strada proprio qualche giorno d'avanti Insomma, a mio indante così Va bene, insomma Io sono di Montemiletto Sì Anch'io di Montemiletto Sì Di Montemiletto e lui Va bene Che altro possiamo fare un grosso in bocca al lupo a tutti quei quattro Speriamo che insomma nella vostra carriera possa avere una grande ascesa Io propongo prima di chiudere un motto inventato al momento della band al tri di Carmine facciamo sesso, droga, rock and roll e facciamo yeah a un urlo grande Va bene Ok? Allora raga dai il 3 Pronti? 1,2,3 Yeah! Grazie ai Big Street Blues Ciao Grazie a tutti